Buonasera Cardellari, facciamo un punto della situazione. Allora, 16 coppie su 16 tutti in cova, tutti con niti, uova, pulli, piccoli, tre femmine agata, un maschio portatore di agata, maschio eomo portatore di satenè con femmina in cova, 5 uova, coppia di bruni con 5 uova sotto. Massio agata portatore di satenè, femmina in cova con 4 uova, è un po' gelosa ma l'apriamo e ve la faccio vedere. Questo è un maschio agli arresti domiciliari, altra femmina con tre magnifici pulli sotto, da cui uno dovrebbe essere un satenè. altra coppia che aspetto la deposizione domani mattina, maschio portatore di lutino per femmina lutino in cova. femmina bruna con maschio ancestrale portatore di bruna. altra coppia qui dentro, questo è un po' suscettibile, maschio portatore di agata, probabile portatore di sabella, femmina per femmina adala. ecco qui un'altra femmina che ha due pulli sotto. provo a prenderli, ma c'è il pericolo che si involano. dovrebbero uscire a giorni. ecco qui. passiamolo un attimo. altra femmina con il nido pronto, dovrebbe deporre domani mattina. altra femmina con due pulli sotto, altro nido pronto, e altro nido che stanno incominciando. 4 10 10 11 18